Ok, stanno effettuando in questo momento degli incroci che normalmente fanno base, diciamo, degli schemi dell'attacco. Benissimo, qualcuno apre, usciamo. Quello che sta entrando in questo momento in campo è Federico Di Sacco, istruttore del secondo livello FISE, con il groom Alessandro Fiaschi. Bravo il groom! Sono rispettivamente 7-8 anni, sono cavalle che hanno già partecipato alla Coppa delle Regioni a giugno del 2011 e cavalle che sono disposti un po' a tutto, fanno matrimoni, manifestazioni, tutto ciò che c'è da fare. La carrozza che vedete attaccare in questo momento è una maratona, le maratone sono carrozze sportive. Quello che invece Federico adesso ci sta dimostrando è un esercizio di dressage. Il dressage si intende un lavoro in piano, un pochino più veloce. Facciamo un applauso a Federico Di Sacco, Lady, Nana e Alessandro. Grazie. 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 che curve che riescano a fare queste cavalle grazie a tutti 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 grazie a tutti